L'esplorazione di oggi sarà incentrata su un genere di struttura che nell'abbandono diventa un tutt'uno con la natura. Per raggiungerla dobbiamo percorrere questo sentiero del comune di Mazzè. Ci troviamo in Piemonte, in un comune del Canavese famoso per il suo castello, ma parlerò della storia di questo comune in un video a parte nel secondo canale. Quest'oggi invece visiteremo una vecchia serra abbandonata che una volta apparteneva ad una delle ville più belle di Mazzè. Questa serra venne abbandonata con molta probabilità nei primi anni del 2000. Anticamente era parte della proprietà di Villa Maria Luisa, splendida dimora, non abbandonata, che si trova non molto distante da questa serra. In questa piccola esplorazione da padrone ci sarà la natura, con la sua perfetta armonia che si sta riprendendo lentamente i suoi spazi. Ma voglio anche raccontarvi qualche aneddoto della villa, che in modo del tutto romantico le sue vicende sono parte integrante della storia di questa serra. La villa venne costruita nella metà dell'Ottocento dal cavaliere Giovanni Battista Basco, ricco borghese di Torino. Quando egli morì, la villa divenne della figlia Virginia, sposata nel 1858 con il conte Enrico Riccardi di Lantosca, colonnello della cavalleria di re Vittorio Emanuele II, ma il marito un giorno morì e la vedova trasformò il parco della villa in un magnifico paradiso floreale. Mi piace pensare che questa serra, oggi senz'altro moderna e diversa rispetto all'epoca della contessa, sia servita per coltivare le sue piante particolari e rare. Un luogo magico e nascosto, impenetrabile nei mesi estivi, dove venivano coltivati innumerevoli fiori e piante da destinare al parco della villa. La contessa fu anche famosa per una fitta relazione pistolare con Francesco de Sanctis, insigne patriota, filosofo e letterato napoletano. Virginia Basco di Mazze fu sua allieva prediletta, ma per i loro tempi vissero quello che si può considerare un amore impossibile. Sono arrivate a noi lettere bellissime, alcune delle quali scritte dalla stessa Virginia all'interno di questa serra, dove si dice che amasse spesso ritirarsi. Francesco de Sanctis continuò a scriverle fino alla fine dei suoi giorni, ed è strano come questo luogo decadente, in qualche maniera rimandi alla memoria una storia tanto triste. La corrispondenza intercorsa tra Francesco e la contessa fu poi successivamente ricercata da Benedetto Croce nel 1914, che l'ha raccolta in una pubblicazione intitolata Lettere a Virginia. Vi ho voluto raccontare una piccola porzione di storia, una delle tante. Questa serra in fondo è ancora ricca di vita, arriveranno in futuro esplorazioni più grandi, più impegnative, ma per questa volta lasciamoci trasportare dalla poesia, dal piacere del passato. Grazie a tutti.